In questo video voglio parlarti della prima lettera alla chiesa di Efeso nel libro dell'Apocalisse. Efeso era una delle città più importanti dell'Ovest della Turchia. Era una città con un grande commercio nel quale era attraversata dalla strada romana chiamata la Via Arcada. La città era dedicata all'adorazione alla dea della fertilità dell'Anatolia e anche alla dea Artemide nel quale lì fu costruito un grande tempio e divenne una delle sette meraviglie mondiali. Nella città di Efeso c'erano anche tanti giudei e c'era anche una chiesa cristiana. Difatti conosciamo le lettere di Paolo alla chiesa di Efeso e anche negli Atti degli Apostoli Paolo parla di Efeso nel quale creò disturbo tra i fabbricanti di idoli dedicati alla dea Artemide che sarebbe in realtà la dea Diana. Ora ti voglio leggere la lettera. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli ma non lo sono e che li hai trovati bugiardi. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato. Ma ho questo contro di te che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. Tuttavia è questo che detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto, che a orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Gesù dice che conosce le opere, la fatica e la costanza della chiesa di Efeso. Difatti possiamo capire dal libro degli Atti che la chiesa di Efeso aveva problemi connessi all'idolatria della Dea Diana e anche con chi produceva gli idoli. E sempre negli Atti conferma le parole di Gesù nell'Apocalisse riguardando i falsi apostoli. Difatti Paolo nel libro degli Atti al capitolo 20 scrive Secondo la storia uno dei falsi apostoli insegnanti era Cerinto, nel quale aveva avuto private rivelazioni da parte di un angelo riguardo al ritorno di Gesù per mille anni. E anche predicava insegnamenti connessi al giudaismo, quasi da abbinare il patto mosaico e il patto della grazia, portando confusione, legalismo e menzogna. Gesù rimprovera la chiesa di Efeso nel quale ha perso il primo amore. E questo non è nient'altro un richiamo all'amore autentico. Difatti analizzando la lettera di Paolo agli Efesini possiamo vedere che era una chiesa che stava sperimentando grandi segni e anche grandi rivelazioni dell'amore di Dio e del regno di Dio. Paolo stesso prega per la chiesa di Efeso di essere radicata e stabilita nell'amore di Dio, nel quale questo amore sorpassava ogni forma di conoscenza affinché la chiesa fosse ripiena della pienezza di Dio. Una cosa positiva era che la chiesa di Efeso detestava le opere dei Nicolaiti, nel quale era un movimento fondato da un certo Nicola di Efeso, che era un pagano che si convertì al giudaismo e poi al cristianesimo. Ed era diventato anche un diacono, ma diventò in realtà un apostata e fondò anche il movimento dei Nicolaiti, nel quale era un movimento fondato sul controllo e sulla seduzione delle persone. Gesù conclude la lettera dicendo che a chi vince darà da mangiare dell'albero della vita, che è nel paradiso. Questo sicuramente simboleggia la ristorazione della relazione con Dio e la vita eterna, essendo che attraverso il peccato originale, Adamo e Eva hanno perso e fatto perdere all'umanità l'accesso al giardino e l'accesso all'albero della vita. Ma in Cristo Gesù ogni uomo ottiene sia la vita eterna e sia la relazione con Dio e questa immagine può essere applicata a tutti i credenti. Ma sicuramente per la chiesa di Efeso aveva un'interpretazione ancora più profonda. Essendo che al centro del tempio della De Artemide c'era un giardino segreto chiamato il Paradiso, al centro del giardino c'era un albero sacro dove si credeva che era il legno nel quale fosse stato usato per la creazione dell'idolo, della statua Artemide, che era di legno. E quest'albero aveva anche il potere di liberare da varie punizioni. Quindi riflettendo attraverso il contesto storico possiamo vedere che Gesù dichiara alla comunità di Efeso che è lui il vero albero della vita e anche il vero Paradiso e non la Dea Artemide. Nel prossimo video ti racconterò della chiesa di Smirne. Se ti è piaciuto questo video condividilo, metti un mi piace e iscriviti al canale attivando la campana di notifica. God bless you! God bless you!